E oggi si sposa nella città barocca, possiamo chiederle come si chiama? Elisabetta. Cosa si prova in questi momenti? Lei sta arrivando nella cattedrale di Noto. Cosa si prova? Eh, speramente molto fascinante. E di Noto? Di Pachino. Come mai ha scelto di sposarsi qui, in questa città meravigliosa? Eh, va bene, di Noto ci sono nata e poi Noto è fantastico. Quindi è innamorata di Noto? Assolutamente. La lasciamo andare al bouquet che lancerà dopo il matrimonio. Sì. E allora, salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Ciao, Bella Sicilia. E naturalmente l'aspettiamo all'altare. Speriamo. Grazie. Grazie alla sposa. Questa è la città barocca, la capitale del barocco in Sicilia. Ed ecco che la sposa sta per scendere dall'auto e raggiungere la bellissima cattedrale. Questa è la città barocco in Sicilia. E' la città barocco in Sicilia. E' la città barocca in Sicilia. E' la città barocca in Sicilia. Ed ecco che la sposa scende dall'auto. E' la città barocca. E questa è la bellissima cattedrale di Noto, oggi in tanti qui in questo luogo fantastico per ammirare anche l'infiorata. Facciamo tutti gli auguri alla sposa, a tutte le spose e lasciate anche un commento sulla bellissima cattedrale. Fateci sapere quali sono anche le mete che visiterete nella prossima eminente stagione estiva in Sicilia. E qui il palazzo Ducezio di Noto.